La regina non ha mai dato interviste, ha comunicato moltissimo attraverso i fotografi che ha scelto per i suoi ritratti, attraverso i colori, attraverso le immagini. E' la donna più fotografata del mondo. Una fotografia non si fa, si crea. Non riesco mai a trovare le parole per descrivere che aspetto avesse davvero. Sua maestà non sorride a comando, ma solamente quando vuole farlo. Questa regina rappresenta la mia idea di regina. E' famosissima, ma nessuno sa realmente chi sia. Lei incarna i valori della famiglia. Ammirazione, amore, rispetto, guida, leader. E' Dio la benedica! Un ritratto di qualità ci trasmette qualcosa sulla persona, non sul fotografo. Dio salvi la regina. Ha abbracciato il vento del cambiamento, ha ispirato ammirazione, affetto e per molti un amore duraturo. Grazie di tutto, maestà. Grazie di tutto, maestà.